Ma lo sai che Luca mi ha proposto un investimento interessante? Quasi quasi Ma stai fuori di Marella? Ma investi lì da me i tuoi soldi? Lascia perdere Luca Assumi! Che figlio l'ultima? Non investire i tuoi soldi con Luca Invece investi il tuo like sul mio canale Non ti costa nulla E ogni settimana avrai un pota verbs Per esprimere i tuoi concetti più complicati In sole due parole Ottimo Luis, breve ma affossante Non solo ho ascoltato il suggerimento di un iscritto al canale Ma l'ho pure trascinato sul set Signore, signori Ma cosa fennan tanta galera? In In Tanta Tanta Galera Ma galera è intesa come prigione o come imbarcazione? E poi si dice galera o galera? Ma soprattutto Che cavolo sta dicendo il bresciano? In tanta galera Significa così lontano Non è sempre così ma talvolta viene associato al sud o alla pianura Dove che andiamo al mare? A Stugli Perché fin giù là in tanta galera? Ti ricordi il potaverbi in fondo affatto? Lo trovi qui? Beh, è quasi la stessa cosa Amico consulente finanziario milanese Eccoti un modo per convincere i tuoi clienti Ad investire il loro denaro con te In Svizzera Ma non serve mica portarli in tanta galera i tuoi soldi Dona un like a questo video E rivedi gli altri video sui potaverbs del mio canale Ce n'è uno per tutti gli utilizzi E niente dove è fotogena Ok Foto fennantantana Perfetto di coazione Ah